Ciao, come state oggi? Cosa fate domani? Oggi è mercoledì, voglio un bico andando a dar s-sahlu e basite, inshaAllah. Chielluna n'ibda con il video sui giorni della settimana. Settimana Quindi abbiamo lunedì, fì Italia la settimana comincia con il lunedì, all'asbuù yibda biyoma l'ethnein. Quindi diciamo lunedì è il primo giorno della settimana, lunedì è il primo giorno della settimana. Poi abbiamo martedì, mercoledì, mercoledì. giovedì, giovedì, venerdì, venerdì, sabato, domenica. Domenica Domenica Ok, potremmo l'ho saputo qualche cosa qui. Perché non c'è l'ho saputo 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 l'ho saputo. Accent Translate Dàimà ben ancia Accent Homm, attiguit, beitرجimuها kelahgea, bens an'amash kassdi lahgea. Ewa, guarda, bambini, t'argi moha calada Okee, fai, non c'è nechare intonazione, intonazione Tertil Watt Altajude, la Elmahim, questa l'alama focal E Devo cercare la lingua In un'altra forma, la lingua La lingua è successiva nella lingua La lingua, non in una lingua O in un'altra In un'altra N'luna di Non c'è Lo ne di O Lo ne di il suoto al qawii l'accento credo si chiami tonico yugi fin nahaia del kelma batchoufu nafsa l'haga keman maha l'e fi e e perchè c'è tagliban colla vowels al hurufa al mutharrica sa va? vowels sto cercando su google come si dice vocali sto bevendo il te con il latte delizioso però al hurufa al mutharrica si vocali e come si dice consonanti consonanti al hurufa al saakina taj tqriban mish tqriban fi qll al hurufa al mutharrica mumkin tijuvu alama hadi l'alama bittu al accento hadi l'alama hakka l'accento bittchalikum tifhamu innu al suoto al qawii biykon fiha daka l'juzo minal kelma وعادة بيكون fi nahaieta l'akil l'anu al tabiha aslan anu yykon bilogah i talia yany عادة biykon l'accento fi aul juz minal kelma halshan hada hum benibihuk fakaat l'man yykun fi ciò che si tratta di un'altra cosa questo è il rame lunedì potremmo potremmo anche qualcosa ad esempio lunedì lunedì martedì mercoledì potremmo potremmo qualcosa ma come tutte le parole di cosa significa? di quando si tratta di un'altra blovi l'Italia ma non si mettere la prima cosa ma come ora qui ma c'è can che c'è anche una cosa c'è questa è la seconda L'altra cosa, è come usare le parole? Come usare le parole? Tutto questo, facciamo un po' di meraviglia Ora abbiamo conosciuto il significato del concetto Lone, Merta Dere Mercoledì Mercoledì Banner Ossabeto Domenica Noi abbiamo conosciuto che l'Italia E v' Jonas Pardino Cosa Zye In Granatura Pardino In Granatura In Granatura vesse ao Wow Yeah La cunanica, l'Agriccia. Ma che sono iniziate l'asema. Quindi Marte è stato l'asema dell'amico dell'amico dell'amico. C'è il'amico di Merkoli di Giovanni, che è stato Zeus, Bannere. E con l'asema che si chiama il quale è il quale Marte. Il quale è il mereich. Mercoli di, di Mercurio. Giovanni di, di Giovanni. Il quale è il quale il quale è il quale. O Zius Benere Al Zuhra Abbiamo il sabato Abbiamo il domenica Che è già dal latino Dies Dominicus Che è il giorno del Signore Il giorno del Signore Quindi oggi che giorno è? E ora dopo aver fatto il scherchato E' il giorno del giorno 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 Abbiamo Questa settimana Haada l'osbu Questa Y'amkian ciufftu haada il kilma Bas Binihayetha kanat o Questo Hina l'ishtarachna a Yannu questa Darurimma tuafak Al kilma lì ba'da Al kilma lì tussufa Questa settimana Ida kan andana a hada l'yom Belli talibè Con questo giorno Questo giorno La settimana scorza E nella settimana scorza E' la sbu' al-madi Che è scorza La settimana prossima E' la sbu' al-qadem Prossima Ma eratim chi è insamato Alla prossima Alla prossima Ubi mana E' la sbu' al-qadem O il-al-madi Alla prossima Alla prossima Tra una settimana Tra una settimana Ba'da sbu' Giorno 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 Iom O nahar Sama atto Buongiorno Questo giorno Giornata Giò a yamin kismet Giorno E' andana Notte Buona notte Notte Leil Mattina Sabah Veyna giorno Naxada l'yom kamel O al nahar Bi shakla Umi kina kul Buongiorno Buona giornata Umi kina istaghdemo Iani Adeta n'istaghdemo Qabla al-dohar Bas Hina mattina N'istaghdemo Fakat Ka sabah Pomeriggio Pomeriggio Hade il-fattra Li ma beyn Al-dohar Wa Qabla al-maghrib Pomeriggio Ladina Sera Sera Buona sera Questa sera Stasera E' li hu Echtesarli Questa sera Hade il-mese Un giorno Un giorno Di giorno Fin neher Di notte Fin leil Dopo Un giorno Ba'dayom Il giorno dopo Il giorno Dopo M'kincazzamato Che man ha di Dopo dopo Ti dico dopo O adesso El-en Dell'adena Oggi El-yum Cosa fate oggi? Come state oggi? Domani Domani Reden Ieri El-baraha Tra due giorni Tra due giorni Ba'dayom Giorni Di anno Entro La prossima Settimana Entro La prossima Settimana Hina Ida Shuftu Entro Bi-ma'ana Fa'al M'kin M'kin Tifakir N'ho Hadhi Ma'natu Rah Adhkul Al-asbua Al-asbua Al-jai Bas Hina N'aksed Ha Khilal Al-asbua 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 Entro La prossima Settimana Entro Questo Mese Fema N'aksed Fihha Il-verbo Entrare Juhu Yedhkul N'aksed Fihha Entro Kakhilal Khilal Hhaadi Al-fetra Zaman M'kin Betis Ma'os Sot Al-maos Al-yum M'ish M'rekkeza Koui Il-fine Settimana Nahaia Al-asbua Il-fine Settimana Huu Fine Li-wahedaha Ma'natu In-tihah A'adha Il-fine Settimana Ma'natu Nahaia Gli sta chedemo Bardo Weekend Giorno Di riposo Yom Ar-raha Riposo Ar-raha Ho bisogno Di un po' Di riposo Ferie Otla Vacanze Vacanze Ijazat O vacanza Ijazat Bas Ferie Mai gish Kamo Fera Diani Dai Manra Tis ma Ferie O mush Feria Quella Ferio Giorno Libero Ijazat Libero Ma'natu Chur Bas Ijazat Bardo Mumkin Diani Ijazat Peresempio Say Libero Adesso Hal Anta Fadi Hal Ijazat Ijazat Ke Giorno A'adji Ke Giorno A'adji Fi A'y Yom Nahna Yani Ke Giorno A' Mumkin Yikun Bim A'y A'y Yom Min Al-Asbu Nahna O Bim A'y Tariq Tariq Kame Oggi E' Venerdi Oggi E' Venerdi Al-Yom Yom Al-Joma Qual'è La data Di Oggi Qual'è La data Di Oggi O Qual'è La data Oggi Data Ma'nato Tariq Bess Idaizint Kulu Tariq Bi Ma'na Methen El Ilm Ilm Tariq No Kulu Storia Yani Kanno Kissa Storia Man Kul Data Studia La Storia Per Esempio Anna Adrus Atariq Qual'è La data Oggi O Qual'è La data Di Oggi Ma' Tariq Lio E' Il 5 Di Febbraio Che piani Hai Stasera Che piani Hai Per Stasera Aditi In fabb Taric Aten Ma' Min E R Per Che piani Hai Stasera O Che piani Hai Per Stasera Ma' Da Tukhatt Lì Ad Mesa Cosa Fai Domani Cosa Fai Domani Ma' Da Se Te Fal Geden Quando Il Tuo Compleanno And Anno 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 Tuo Sena Per Esempio Quanti Anni Hai And Anno Mese Esher O And Anno Stagione Stagione Fas La Sena Quando È Il Tuo Compleanno Meio Miledek Quando È Il Tuo Compleanno Il 7 Di Aprile Il Tuo Oggi Il Mio Compleanno Oggi Il Mio Compleanno Il Yom Ad Mela Di Fakhlas اليوم شفنا الكلمات اللي كنا نريد أن نتحدث عنها في هذا الفيديو بس البعض منكم بيقول لي ما بيحفظ وما بيتذكر الش الحاجة اللي بيدروس وبي بيقراء ها إيش الحاجة اللي ممكن تعملوها علشان تحفظوا هذه الكلمات عندي كم حاجة بسيطة ممكن تعملوها علشان تذكروا هذه المفردات مثلا أول ما تستيقض اسأل نفسك كي جور نوايا عجي في أي يوم من الأسبوع نحن اسأل نفسك بالإيطالي ويعطي نفسك الإجابة بالإيطالي عجي ميركوليدي عجي فينيردي ممكن تكتبوا الأسماء هذه في ورقة وتلسقوها في أي مكان وتخلوها باينة الحاجة الثانية اليوم ممكن تكتب هذه الكلمات في أي ورقة بس مش داخل دفتر يعني لسقها في أي مكان علشان تشوفها خلال اليومين خلال اليوم وبكرة وإن شاء الله خلاص من كترة ما تشوفها خلاص حفظتها ممكن تخليها مثلا جنب سريرك وقبل ما تنام تراجعها خلال النهار وقبل أن تنام مثلا ممكن تقلس تخطط إيش ممكن تعمل اليوم أو للمساء وحاول أن تذكر كيف تقول الجملة هذه بالإيطال مثلا هذه التمارين حاجات بسيطة جدا بس إذا استخدمتها باستمرار راح تساعدك على ممارسة اللغة الإيطالية في حياتك اليومية هنا حاجة تانية شفناها اليوم بس بشكل مباشر الأسئلة فمتلا قلنا كي جورن اه اجي كال اه الادات اجي كوز افاي واند واند اي التو كمپلانو فهدي كلمات راح نشوف في الفيديو الجاي والفيديو راح يكون عن كيف تكوين سؤال بالنوغ الإطالية vi aspetto alla prossima ciao اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة